Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Allora, due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Parola del Signore. Oggi inizia un nuovo anno liturgico, l'anno A, nel ciclo triennale delle domeniche, e quindi inizia un nuovo tempo liturgico, il tempo dell'avvento, che significa venuta. Non solo per prepararci al Natale, certo, ma per prepararci alle venute e all'ultima venuta di Gesù. E cominciamo la lettura di un nuovo Vangelo. L'anno precedente ci ha accompagnato Luca, nell'anno A il Vangelo da seguire è quello di Matteo. Matteo scrive per comunità di ebrei diventati cristiani, quindi gente che conosce bene la Bibbia, l'Antico Testamento, quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, la parola di Dio, e nel suo Vangelo Matteo vuole mostrare che tutto quello che è stato promesso e anticipato sul Messia si compie in Gesù. E quindi Gesù, nel Vangelo di Matteo, è sempre il maestro, è veramente un rabbi che insegna in tutte le occasioni. Ma oggi cominciamo con un brano del discorso sempre apocalittico, perché era appunto come dicevamo due domeniche fa, era un genere letterario, un modo di parlare che tutti usavano, che ci introduce proprio nel tempo di avvento, con delle immagini, l'immagine di Noè che sta preparando l'arca perché si sta per abbattere il diluvio, l'immagine del ladro che arriva nella notte. Sono immagini di un'urgenza, dell'arrivo di qualcosa, come il ladro, come il diluvio, qualcosa di travolgente, non soltanto di terrificante, ma qualcosa che sta per arrivare e di cui bisogna essere consapevoli e preparati. Ecco, allora la parola d'ordine di questa domenica e di tutto il tempo di avvento, ma che è una dimensione in realtà che ci accompagna, ci dovrebbe accompagnare sempre nella vita cristiana, è vegliate, cioè state svegli, state attenti, non vi distraete, non vi addormentate, un po' l'immagine è questa, perché? Perché il Signore viene, ma il Signore viene, non solo il Signore verrà, verrà alla fine della storia, verrà alla fine della mia vita, di ogni vita, ma il Signore viene, è venuto, viene e verrà. Il Dio della Bibbia è il Dio che entra dentro la storia, è il Dio che viene a visitare il suo popolo e allora, come dire, l'invito di questo avvento è risveglia il cuore, apri il cuore a essere attento, a scoprire, a cercare le venute del Signore nella tua vita, quelle che ci sono state in passato, ma quelle che ci sono ora, quanti incontri, quante persone, quanti volti, quante situazioni in cui il Signore ci è venuto incontro e magari ci ha parlato, e forse noi non eravamo sempre pronti ad ascoltare, pronti a accorgerci della sua presenza, eravamo presi, distratti da tante cose. Ecco, l'invito dell'Avvento è tornare all'essenziale, tornare a scoprire le venute del Signore Gesù che viene in mezzo a noi nella nostra vita, verrà certamente a Natale, ma viene in ogni incontro, in ogni volto, in ogni chiamata all'impegno, al servizio, al dono. Chiediamo al Signore che ci doni questa vigilanza, questo essere pronti ad accoglierlo con il nostro cuore, con la nostra preghiera, con le nostre scelte, con la nostra attenzione del cuore che sa scorgere la presenza di Dio dentro la vita. Buon cammino di avvento a tutti!